la settimana di babbo natale che cosa fa babbo natale la settimana prima della festa più bella dell'anno lunedì incarta i regali martedì attacca i fiocchi colorati mercoledì dà alle renne un po di fieno giovedì mette i campanelli alle renne venerdì carica i pacchetti sulla slitta sabato indossa i suoi stivali nuovi e domenica è pronto a partire la slitta vola nel cielo lasciando una scia luminosa io comprendo osserva e scrivi i giorni della settimana di babbo natale quando incarta i regali lunedì bravissimi e quando attacca i fiocchi colorati martedì e qui dà da mangiare alle renne vi ricordate in quale giorno bravissimi di mercoledì e quando mette i campanelli alle renne di giovedì carica i pacchetti sulla slitta in che giorno di venerdì bravissimi e quando indossa i suoi stivali nuovi di sabato e qui è pronto a partire e lascia nel cielo una scia luminosa vi ricordate in che giorno avviene bravi proprio di domenica l'ultimo giorno della settimana